Sì, grazie Claudio. Il lavoro che il Movimento 5 Stelle sta approfondendo sulle tematiche che interessano tutti i lavoratori cittadini italiani è un lavoro importante, è un lavoro lungimirante, è un lavoro che tocca a vari temi. Uno di questi è appunto la rappresentanza sindacale, una rappresentanza che ad oggi non è garantita nel senso che non si possono presentare nuove liste sindacali e quindi manca la piena attuazione dell'articolo 39 della Costituzione italiana. Questo si può facilmente cambiare consentendo quindi ad ogni lavoratore di poter eleggere da chi vuole essere rappresentato, lo può cambiare il legislatore, lo può cambiare mettendo mano a una legge sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale. Attuando anche ciò che una sentenza, la sentenza della Corte Costituzionale nel 2013 ampiamente ha indicato. Tutto quello di cui noi stiamo parlando rientra in un disegno molto ampio. Ricordiamoci che ad oggi, in questo momento, i lavoratori a volte sono rappresentati da sigle sindacali che hanno stipulato un accordo con Confindustria che in effetti a volte, e nei tavoli di crisi lo abbiamo visto, personalmente l'ho visto, non rappresentano la maggioranza dei lavoratori iscritti di quella specifica azienda o di quello specifico settore. Ora, appunto per questo è corretto far sì che il lavoratore appunto venga rappresentato nel modo in cui decide di essere rappresentato e da chi decide di essere rappresentato. Proprio poi per parlare appunto e continuare il discorso e ampliandola ancora di più, quei tavoli di crisi a cui noi tutti siamo abituati dalle notizie di ogni giorno che portano le grandi aziende o anche le più piccole ad avere esuberi, a ricorrere ad ammortizzatori sociali, a ricorrere a cassa integrazione, ma non a ricorrere a cassa integrazione che poi sono a fine a se stesse, cioè non c'è poi una reale progettazione che porti sia l'azienda che il lavoratore a uno al riorganizzarsi e a reinserirsi nel contesto produttivo italiano e l'altro a reinserirsi nel contesto aziendale. Spesso appunto questi strumenti che sono ormai obsoleti e queste modalità che sono obsolete portano nella maggior parte dei casi a tamponare il problema e far sì che le aziende italiane in qualche modo fermano la loro crisi per qualche tempo, nella maggior parte dei casi chiudono o rinnovano la crisi dopo qualche anno e ne abbiamo contezza in questi giorni anche di grandi aziende italiane e il lavoratore rimane fuori dal contesto lavorativo. Allora cosa si deve fare? Si deve ripensare agli ammortizzatori sociali in modo tale che siano non uno strumento passivo ma uno strumento attivo, pensiamo al modello scandinavo, pensiamo al modello continentale utilizzato anche da Germania e da Francia, pensiamo a quei modelli che hanno fortemente investito nelle politiche attive, nella formazione tecnologica innovativa in azienda che poi ha consentito maggiore produttività, ha consentito che il lavoratore rimanesse in azienda e fosse formato continuamente dall'azienda e quindi un sostegno attivo anziché un sostegno passivo. Chiaramente tutto questo va fatto investendo in politiche attive del lavoro, investendo non consentite, non come è stato fatto dai governi precedenti, governo Renzi, governo Gentiloni, in cui si parla tanto di politiche attive del lavoro ma in effetti poi non si inseriscono risorse efficaci ed efficienti tali da rendere queste politiche realmente attive, da rendere i centri per l'impiego funzionanti. Ricordiamoci che un paio di giorni fa il matching che i centri per l'impiego sono in grado di fare tra aziende e lavoratori è pari al 2,5%, quindi non intercettano né la domanda nell'offerta di lavoro. Bisogna invece investire così come hanno fatto in altri paesi del resto d'Europa, investire con risorse umane, con competenze e quindi anche con risorse economiche. Continuando quindi con strumenti di protezione sociale che eliminano e vanno a diminuire le disuguaglianze, le disuguaglianze che sono proprio portate da che cosa? La disuguaglianza che noi troviamo nel nostro paese e l'Istat l'ha certificata un paio di giorni fa in commissione bilancio, abbiamo 7 milioni di persone che in questo momento vivono una situazione di grave deprivazione materiale, quindi che sono in grandi difficoltà. Ma non è che la disuguaglianza viene dal nulla, viene dalle politiche anche del lavoro, dalle politiche attive che sono state inserite dalle leggi nei vari anni, nei decenni. Il fatto di aver diminuito i salari, la stagnazione salariale, il fatto di non aver mai pensato a una riduzione dell'orario di lavoro, il fatto di non aver mai investito in politiche attive, ha fatto sì, non che quindi il fatto di fare una politica diminuendo il salario e quindi il costo del lavoro ma sul lavoratore, ha fatto sì innanzitutto che c'è stata una diminuzione dei consumi e chiaramente ha fatto sì che non è aumentata, non è stata aumentata la produttività. L'Italia, le statistiche ce lo dimostrano, è tra i paesi, anzi il paese che per produttività ha il livello inferiore, quindi non abbassando i salari si è aumentata la produttività, invece i modelli scandinavi continentali hanno dimostrato, e le retribuzioni della Germania, della Francia e di altri paesi ce lo dimostrano, che aumentando la formazione e la produttività aumentano anche i salari. Chiaramente tutto questo va accompagnato, e noi l'abbiamo detto, da una forte protezione sociale, qual è il reddito di cittadinanza, che è un sistema collegato al reinserimento lavorativo, alla formazione e che quindi incide fortemente sulle disuguaglianze e va comunque il tutto considerato anche guardando a quello che è la generazione che si avvicina all'età pensionistica. Bisogna pensare a come far sì che le persone in età, che si avvicinano all'età pensionistica, possono andare in pensione e a come invece poter reinserire o inserire i giovani che in questo momento, data la stagnazione che c'è, sono fuori dal contesto normativo. Se pensiamo agli sgravi contributivi, gli sgravi contributivi o gli esoni contributivi non si devono dare, non si danno così come è stato fatto appunto dai governi recenti senza a tutti e a pioggia. Bisogna pensare a come dare un reale incremento dell'occupazione. Un esempio potrebbe essere una staffetta generazionale, una staffetta generazionale che però deve essere conveniente sia al lavoratore che per le imprese, perché è chiaro che l'azienda a cui viene proposta una staffetta generazionale e che però avrebbe e ha un costo maggiore per affrontarla non la metterà mai in atto, ma se invece si lega la staffetta generazionale, cioè l'accompagnamento in uscita del lavoratore anziano all'inserimento del giovane, dando gli sgravi, quindi collegando gli esoni di contributivi al giovane ne assunto, quindi con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, in modo tale che l'anziano viene accompagnato in uscita e dà il suo bagaglio di conoscenze al giovane e il giovane appena inserito porta innovazione, ricerca, perché chiaramente è più preparato in quel senso e il datore di lavoro, e ci sono, c'è stato anche qualche esempio in alcune aziende italiane di prove del genere e sono andate a buon fine, a quel punto per l'impresa diventa conveniente e quindi si hanno due lavoratori, uno che man mano esce e che è contento di accompagnare il giovane e uno che entra collegato agli esoni di contributivi e quello ha un senso, creiamo con noi i posti di lavoro.